Ciao a tutti, in questo periodo è cosa abbastanza comune che parte di voi e le persone comunque che incontro ogni giorno abbiano una sensazione di dover affrontare tutta una serie di ombre, tutta una serie di situazioni irrisolti, energie pesanti e tantissime cose che sembrano riaffacciarsi nella loro vita e che magari pensavano di aver già completamente messo a posto e guarito. Ebbene, questo è un periodo particolarmente dedicato a livello energetico perché si stanno verificando proprio queste sensazioni, si stanno presentando queste sensazioni un po' a tutti, perché questo in realtà è un periodo di grandissima pulizia, come la dico semplicemente tutti i nodi vengono al pettine e come vedete avendo i capelli ricci di nodi ce ne possono essere anche tanti. Allora alleggeriamo un po' la situazione, tenete conto che questo è un periodo di transizione, c'è stato un anno che per molte persone è stato un anno di fioritura al 2016, soprattutto verso la metà alla fine. Ebbene, adesso è come se l'energia si stesse preparando ad una svolta molto più profonda, quindi ci sono tutta una serie di situazioni che stanno venendo fuori e semplicemente sono da affrontare, da vivere, da trasformare, da trasmutare e quindi approfittate di questo periodo per andare a fondo, di guardare, approfittatene proprio per guardare le vostre ombre, perché è un periodo che ci consente di fare un grandissimo lavoro e quindi approfittiamone proprio per ripulirci al massimo livello. Benissimo. Allora, proprio per questo io vi suggerisco questo esercizio che è molto semplice. Chiudi gli occhi, fai un bel respiro profondo e ascolta questa sensazione che provi, questo disagio, questa sensazione che a volte si manifesta proprio anche nel corpo e che ti porta a volte a reagire in un modo che non è proprio quello che vorresti. Quindi respira in questa sensazione, ascolta, l'ascolta proprio come si muove all'interno di te, quali sono le emozioni connesse a questa sensazione. Ebbene, nel momento in cui questa sensazione è diventata chiara, è diventata presente, chiedi a questa sensazione semplicemente di trasformarsi nella sua versione più elevata, ossia chiedi proprio alla fonte di integrare in te tutte quelle risorse, quelle consapevolezze e quelle informazioni che ti servono a trasmutare questa sensazione, quest'ombra e questo disagio connesso ad essa. Continua a respirare e sentirai che energeticamente accade qualcosa dentro di te e se sei pronta a lasciare andare quest'ombra semplicemente si trasmuterà o si dissolverà. Quindi è un esercizio molto semplice che puoi fare autonomamente, può anche darsi che non tutto svanisca perché magari non sei ancora pronto per integrarla, lasciarla andare o semplicemente c'è un lavoro da fare più profondo. Ma intanto tante delle ombre che si presenteranno saranno trattabili in questo modo, quindi approfittane. Ti mando un abbraccio e un raggio di sole visto che qui è una bellissima giornata e a presto, ciao!